Certo che se a un certo punto ci fosse entrato anche un certo affetto, ci fossero stati vicini con un bigliettino da auguri a Natale o roba del genere, oppure una tessera d'entrata gratis allo stadio, a noi avrebbe fatto molto piacere, comunque sono cose vecchie che è spiacevole ricordare, però a un certo punto si può pensare che a quest'ora, invece che all'Inter, se il Torino si fosse comportato come a noi avrebbe fatto piacere, avremmo potuto essere al Torino.